Fuochi d'artificio e 3-2 finale pirotecnico. Vince la Virtus Matino con questo gol allo scadere del nuovo entrato Nino Morra. Perde con tanti rimpianti sul neutro di Ugento e nel recupero della 27esima giornata di Serie D il Gravina, che fallisce così l'aggancio in quarta posizione al Fasano. E resta in quinta piazza, l'ultima utile per accedere ai play-off con gli stessi punti, 45 della Nocerina. Diventano 19 invece quelli dei Salentini, la missione salvezza resta complicatissima, ma la squadra di Peppe Branà dimostra di non essere rassegnata al peggio. Partenza col botto per la Virtus Matino, Monopoly batte di potenza alla punizione dal limite, Mascolo non trattiene e la palla termina nel sacco. Padroni di casa in vantaggio, giocano con disinvoltura e buona personalità ai Salentini, ma la situazione di privilegio dura non tantissimo. Il Gravina infatti pareggia i conti a metà frazione, scalera, serve il traversone dalla destra, Krsteschi schierato dal primo minuto in attacco in coppia con Diop. Fa centro, così, equilibrio ristabilito, la partita resta vivacissima, la Virtus torna ad attaccare alla ricerca del nuovo sorpasso che arriva poco dopo la mezz'ora e sta Ucciuk sugli sviluppi di un corner a trovare l'incornata vincente del 2-1. Il Gravina prova a scuotersi, ma Diop dal limite calcia alle stelle, padroni di casa, avanti di un gol all'intervallo. Ripresa che si apre con l'aggancio dei Murgiani. Dormita difensiva dei Salentini, il mio entrato Tommasone su assist di Borgia, coglie l'attimo ed in sacca indisturbato. 2-2 al comunale di Ugento, verdetto, aperto a qualsiasi soluzione, provano a sfruttare la scia favorevole gli ospiti, mascalera dalla distanza non centra il bersaglio, sventola da fuori aree dalla parte opposta pure di Stajucuk, mascolo, sbalaccia in corner e ancora punizione centrale di Chiaradia, neutralizza Leuci. Facile anche l'intervento dell'estremo dei Murgiani sul tentativo di Calò. Tommasone per il Gravina va verso il centro, la Virtus rischia grosso nella circostanza, ma Leuci è riattivo ed evita l'autorete. Entrambe vogliono vincere, Tommasone dalla distanza sbaglia la mira, Chiaradia calcia sul primo palo con il Mancino, Leuci c'è, finale di partita, attaccano gli ospiti, Gilli incrocia male nella circostanza, sfera sul fondo, Rechichi firma l'invito dalla destra, nessuno lo raccoglie, poi sullo sviluppo dell'azione la soluzione al giro di Tommasone non incide sul punteggio, incide invece la conclusione di Morra allo scadere, gol partita e 3-2 finale per la Virtus Matino. Domenica 27 marzo sarà sfida interna con la Casertana per i Salentini, i murgiani invece proveranno a riscattarsi al Città degli Ulivi contro la vicecapolista Bitonto, già battuta l'andata.